Drammatico e commovente, il recente episodio vissuto dal talentuoso cantante Stash dei The Colors ha sconvolto i suoi fedeli fan. Benvenuti nel nostro canale, dove vogliamo approfondire insieme questo momento delicato. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti alcun aggiornamento. Stash, il carismatico leader dei The Colors, ha recentemente attraversato un momento di grande paura. Dopo giorni di silenzio sui social, è riemerso per rivelare di essere stato vittima di un brutto episodio che lo ha profondamente scosso. Aveva annunciato l'uscita del nuovo singolo, Karma, ma poi era misteriosamente sparito, suscitando preoccupazione tra i suoi fan. Nelle ultime ore, attraverso Instagram, Stash ha finalmente condiviso la verità. Ha subito un furto nella sua abitazione e ha immediatamente provveduto a presentare le necessarie denunce per tutelarsi. Nonostante il momento delicato sul fronte lavorativo, si è sinceramente scusato con i suoi sostenitori per la sua assenza, ringraziando al contempo le forze dell'ordine per il loro tempestivo intervento. Le sue parole, cariche di gratitudine e determinazione, hanno rassicurato i fan. Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto, Karma, viaggia nell'aria e sono felice e vi stia piacendo. A presto! Nonostante il furto non abbia causato danni fisici, l'esperienza ha lasciato un segno profondo a livello psicologico. I fan, informati dell'accaduto, hanno subito mostrato la loro vicinanza e il loro affetto per Stash, inviando gli messaggi di supporto e solidarietà. Ora più che mai, è importante augurare a Stash di ritrovare presto la serenità e di godersi appieno il successo del suo nuovo singolo. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito e a presto con un nuovo video!